Signore e signori, buonasera a tutti con il più campionato che è venuto alla situazione di controllo dei cerchi mancano meno di 15 minuti all'inizio dello spareggio per la promozione in serie minule di fronte alle due squadre che sono già in campo per il riscaldamento ufficiale la promozione ospite della multicoppia di S.S.Bastra S.S.S.S.S.S.S.S.S.S.